Salve a tutti, benvenuti a Vivere Osimo, Osimo Web, la nostra serie di puntate è relativa alla situazione covid e quest'oggi parleremo di commercio e lo facciamo proprio con il massimo esponente del commercio delle marche centrali, nonché direttore di commercio Marche Centrali e le professore Massimiliano Polacco che ringraziamo per la disponibilità, buonasera direttore. Ciao, ciao Luca, ciao a tutti. Allora, qui la situazione è drammatica e il vostro settore, quello del commercio, del turismo, della ristorazione è quello che da un anno a questa parte sta soffrendo più di tutti, è uscito il dato di oggi da parte di un'altra realtà associativa, ma comunque possiamo citarlo, Confesercenti che valuta ad esempio la chiusura, l'entità della chiusura di ogni giorno delle attività e che sono legate proprio al settore del commercio in circa 80 milioni di euro al giorno, cioè ogni giorno 80 milioni di minori consumi per quanto riguarda le vostre attività. Il quadro delle marche qual è? Come stanno le attività nelle marche? Che siamo attività nelle marche? La situazione è drammatica, drammatica, i dati ce lo dicono, ce lo dicono anche dell'anno passato, perché i dati dell'anno passato ormai ce li abbiamo, il nostro ufficio studi della Conf Commercio Marche ha attivato le somme e ha portato il danno al mondo globale del terziario per l'anno 2020 in 4 miliardi e 700 milioni. Questo è il danno. Una manovra quasi, una piccola manovra? Solo regione Marche, parlo solo di regione Marche, perciò è una manovra nazionale quello che il danno che è stato portato alla regione. Un altro dato che potrebbe essere interessante per capire quali sono i settori più colpiti, 955 milioni sono attivuivi alla ristorazione, pertanto quasi un miliardo solo alla ristorazione. Poi chiaramente c'è tutto il resto del mondo che è legato all'attività del commercio, come dicevamo, e del turismo. Il commercio, uno dei settori più colpiti è sicuramente quello della moda, moda quando parlo di moda parlo anche del mondo delle cerimonie, tutto quel mondo delle cerimonie che è fermo da un anno. Non ci risposa più, si aspetta. Non ci risposa più. Adesso noi ci ridiamo sopra, però pensate il dramma delle famiglie, perché intorno all'indotto della cerimonia non ci vive solo il mondo della ristorazione, ci vive l'artigianato, ci vive tutto quel mondo delle parrucchierie, dei servizi, del fotografo, è quasi un grosso investimento, no? Quello del matrimonio di un figlio o di una figlia in Italia. Beh, quel mondo è fermo, completamente fermo. Anzi, posso dire che stavamo in alcune zone delle marche, lanciando dei business internazionali con della possibilità di venire nei nostri parti e fare il matrimonio globalmente. Per esempio c'è un paese nel Fermano che fanno essenzialmente questo, facevano tutta la città, lavora nella predisposizione di questo evento. Beh, quella città è ferma, è ferma come fermo molta parte dell'economia del terziario, escluso l'alimentare, diciamo, lo chiamano mondo di prima necessità, che è un 20% del mondo del commercio, che sta andando bene, anzi sta andando benissimo, ma soltanto quel 20% di alimentari. Ecco, che cosa intendete fare come Commercio? Cioè le proposte, gli incontri con sia il governatore Acquaroli che con, ovviamente a livello nazionale con il vostro Presidente, sono sempre frequenti, con il Presidente del Consiglio, anche Draghi, ma che cosa può fare il governo per sostenere questo settore? Cioè si parla di questo decreto sostegno che probabilmente le cui risorse arriveranno se arriveranno a maggio e nel frattempo marzo e aprile come fanno ad andare avanti i vostri associati e non solo? Siamo ovviamente alla frutta perché ormai le persone che ci chiamano ci dicono quando avviano queste disposizioni. Prima non interessava, diciamo che nel 2020 dicevano facci ripartire, facci ripartire, far ripartire questo mondo. Voglio fare una premessa però, perché nasce questo problema? Perché il governo Conte non ha considerato questo mondo come un mondo produttivo, ma l'ha considerato soltanto nel ragionamento di assembramento. Cioè ha considerato i centri commerciali, i centri storici, la ristorazione, i bar, come non un'attività produttiva importante per questo Paese, ma da sacrificare, da poter sacrificare. Questo è il problema vero, quello che è nato. Io oggi mi sento dire da molti esponenti dello stesso partito e dico bisogna far partire quel mondo, ma se lo avete bloccato voi. Perché quando noi dicevamo, ma perché bloccare, quando abbiamo predisposto tutta una serie, noi abbiamo la regione Marche, per chi non lo sai, è la mia associazione in prima battuta, è la capo, diciamo, la coordinatrice di tutta l'attività del commercio, del coordinamento regionale. Pertanto tutti i protocolli sono nati qua, dentro i miei uffici, concordati con la regione e le abbiamo fatti nascere, per esempio quello della ristorazione è nato la domenica, quello del commercio è nato il sabato, quello della… io ho ogni giorno, quando riuscivamo a far partire un protocollo dei ambulanti, gli ambulanti sono nati qui dentro, tutta una serie di attività, battaglie, ma la battaglia anche a livello nazionale, perché i miei a livello nazionale bloccavano l'INAIL, che vi ricordavate diceva protocolli a non meno di quattro metri, il comitato tecnico-scientifico ha approvato immediatamente il protocollo di quattro metri, noi come regione Marche l'abbiamo, siamo riusciti a farlo passare come conferenza delle regioni ed è diventato un metro, pertanto se la distanza è un metro oggi, lo si deve soltanto a qualche persona della regione, non voglio fare nomi, vi piedo talarico, il sottoscritto e l'allora governatore che su questa cosa ci ha creduto e ce l'ha portata avanti, perciò tre persone hanno deciso di i protocolli che anche oggi vanno avanti e l'INAIL che è il comitato tecnico-scientifico in quel caso sono stati battuti perché qui è stata approvata il lunedì ed è stato passato, lì sono usciti il mercoledì ma noi mai l'avevamo approvato e il governo, la nostra confederazione è andata dal governo e ha detto o mai ce l'ha approvate, approvate quelli delle regioni, così è andata, questa è la storia e tutto il resto è chiacchiere come si sono dire. Ecco poi il GTS ve lo sognate di notte, a parte che adesso si è dimesso migliorso perché andrà per parte del ministero di istruzione, ma io penso che se fosse stato ristoratore io mi sogno questi nomi, questi scienziati che poi tra l'altro si discute molto sul fatto che siano scienziati o meno perché i punteggi, molte hanno discusso anche sui punteggi per quanto riguarda i membri che compongono questo comitato. Ma al di là di tutto questo, l'ho accennato su Fairplay qualche giorno fa, c'era stata anche una protesta di ristoratori, penso anche marchigiani, sul fatto che continuano a pagare le tari e continuano a pagare la tassa sull'insegna quando l'insegna è spenta e ovviamente i rifiuti prodotti sono pari quasi a zero perché chi è che fa l'asporto non è, anzi rifiuti, ci riportiamo dopo, nel momento abbiamo consumato il cibo, li produciamo noi a casa, cioè questo pure è un'altra cosa tutta italiana, fate i protocolli e poi dopo state chiusi. Stanno chiusi, noi abbiamo fatto una letta a tutti i comuni delle Marche e ci sono stati comuni più sensibili, comuni meno sensibili, come tutti, tutti i 250 comuni, alcuni come il comune di Ancona Lapporato, mi pare il comune di Fermo, adesso non ho l'elenco, alcuni comuni hanno comunque detassato questa parte importante. Noi siamo un'associazione, certe volte siamo scambiati come il governo in prima persona, noi siamo un'associazione che spingiamo e spingiamo, spingiamo, spingiamo il governo, spingiamo i governi regionali, provinciali, le varie amministrazioni e molte volte non si, qualcuno non ti dà retta, se non ti dà retta non vuol dire che noi non abbiamo fatto il nostro, vuol dire che a quel punto non so come facciamo a convincere qualche sindaco che bisogna agevolare queste imprese che sono veramente in difficoltà, che non riescono a pagare l'Atari. Per quanto riguarda la Valmusone, per la Valmusone hanno accettato i sindaci della Valmusone? L'Oleto ha accettato, qualcosa ha accettato anche Osimo, ma l'Osimo ha accettato poche cose. Ancona è stata quella che obiettivamente ci ha accettato un po' di più le nostre richieste, anzi è andata al di là. Poi si è persa sul porto, comunque sul porto abbiamo aspettato, tergiversato un po', poi è stata presa la decisione finalmente, però forse era troppo tardi perché il Covid poi ha circolato. Il fatto che ha circolato così forte in questo territorio non si riesce ancora a capire, c'è stato un momento dieci giorni fa che non uscivamo obiettivamente a Quavoli, ci voleva venire dietro, tenere ancora aperta. Noi siamo stati gialli, mentre i numeri ci davano quasi rosso, anche questo non dobbiamo dimenticarlo. Speravamo di risolverlo, ma obiettivamente poi ha circolato talmente tanto questa malattia che era impossibile, i numeri sono stati talmente importanti che abbiamo dovuto soccombere e non spingere più per tenere aperto perché era inutile. A questo punto la salute non può venire prima dell'economia comunque la salute. La nostra battaglia l'abbiamo fatta, la continuiamo a fare, la facciamo ogni secondo della nostra vita, però dobbiamo tenere conto che in questo momento ci sono molti concittadini che stanno molto male, stanno muovendo negli ospedali dove avevano fatto, voi lo sapete, gli ospedali erano completamente pieni, stavano le ambulanze fuori degli ospedali. Non si può contenere i cittadini in questa situazione, questo non è umanamente possibile. Ecco, non crede che magari forse in questo anno, per me è passato un anno, non ne sia passato un messaggio corretto su quello che fanno chi lavora nelle situazioni del commercio, perché come diceva lei, sembra che noi siamo quelli che agevolano il contagio, ma restiamo chiusi e lo stesso comunque il contagio si rifonde. Ormai siamo rossi per quanto vanno a provincia di Ancona da parecchio tempo, quindi in realtà il problema non siamo noi, però veniamo a trattati come se fossi un corretto. Sono contento che anche Luca Falcetta sia da noi, si sapeva che c'era un ristorante. Allora, nella telefonata che mi fece Acquavoli che mi diceva, signor, non possiamo mantenere questo, dobbiamo passare in rosso. Domani Ancona passa in rosso. Io ho detto ok, passiamo in rosso, tanto non possiamo più fermarla a questa situazione. Ricorda in conferenza delle regioni, a questo punto, che è stata una cattiva volontà considerarsi degli untori. Io ho detto, è stato pubblicato da diversi giornali, anche uno nazionale, che ci hanno considerato degli untori. I untori che non è così. La Movida c'è stata lo stesso, a prescindere se i ristoranti erano aperti e chiusi. Quando a Lucca c'è stato quel grande movimento, i ristoranti erano chiusi, i bar erano chiusi, si erano portati la birra da casa. Pertanto, considerare la Movida collegata all'attività della ristorazione è un grande errore. È stata, diciamo, che la volontà era quella di dimostrare che qualcosa si doveva fare. Qualche attività la dovevano chiudere e hanno deciso che questa era un'attività da chiudere. Pensiamo soltanto, pensiamo solo a quelli, pensiamo solo a quelli, a quelli dei centri commerciali. Molti dicono che io mi dimentico dei centri commerciali. Non è assolutamente vero. I centri commerciali hanno provato, sono chiusi da fine ottobre. Cioè, il sabato e domenica i centri commerciali, le attività sono chiuse da fine ottobre. C'è stata questa spinta della malattia. Non è certo colpa del commercio. Non è colpa del commercio, non è colpa della ristorazione, tanto male del turismo, tanto meno del turismo perché è chiuso. Il turismo in questo momento è completamente chiuso, se non qualche attività che fa un'attività più sociale che altro. Ecco, io stavo dicendo una cosa, nel senso che la Movida si è fermata, parliamo anche nel caso di Orsino, quando ci sono stati controlli. Cioè, non è perché erano aperti i negozi o meno. La Movida si è fermata quando c'erano i controlli. In realtà, invece, siccome sono aperti i pari e gli esercizi commerciali, i negozi, l'avviamento, eccetera, allora ci sono le persone. In realtà, perché nel momento in cui hai detto guarda che ci sono i controlli, la gente non si è fatta più vedere. Si sa esattamente come è stata la seconda e la terza ondata ormai. È provato scientificamente anche dal comitato, che abbiamo incontrato i primi del febbraio due volte, nazionale, in quale ci hanno detto, i dati sono la scuola, le famiglie e i trasferimenti, cioè la viabilità dei mezzi pubblici. Questi sono i tre grandi veicoli del contagio, non è quello del mondo del terziario. E penalizzare così il terziario è una cosa veramente vergognosa e obiettivamente non è assolutamente giusta. Questi sono i tre veicoli. Non tanto perché nella scuola c'è il contagio, ma perché i bambini portano a casa il contagio dai nonni, perché i giovani non li puoi chiudere, non è che li chiudono, anche se non vanno a scuola ha motivo in più che vanno in giro e poi portano a casa il contagio. E poi abbiamo visto mai i mezzi pubblici? Siete mai andati a vedere i mezzi pubblici nel mesi di gennaio, dicembre, novembre a Dancone? Impossibile non prendere il contagio lì. Pertanto come ha viaggiato si sa. Ma che cosa fare? Adesso il problema ormai c'è. Voi siete fermi. Pasqua avete perso persino, dopo Natale avete perso persino Pasqua, quando per noi, soprattutto per la zona della Riviera, era senz'altro una boccata, avrebbe significato una grande boccata d'ossigeno per tante attività commerciali. Adesso come ripartire? Che cosa chiedete concretamente al Governo regionale e ovviamente al Governo nazionale con Mario Draghi e avete qualche progetto, qualche ingegnosità? Avete ingegnati qualcosa per... Oltre alle richieste nazionali che non sto qui a dire sui ritorni economici per i nostri imprenditori e tutta l'attività che sta facendo il nazionale, quello che sto facendo io a livello regionale, come direttore regionale dell'organizzazione. Noi ci stiamo muovendo su diversi campi. Uno, questo in accordo con la regione, stiamo trattando e vedendo che aveva dei punti di... siccome il vaccino è l'unico modo per uscire, stiamo pensando addirittura di metterne uno qua dentro, in altri posti o stiamo ragionando con altri. Abbiamo una nuova sede, abbiamo una bellissima sede, molto grande, quindi Commercio per aiutare, così potete riaprire, giustamente vi mettiamo a disposizione la nostra struttura, ecco spieghiamolo perché c'è questa nuova... Stiamo ragionando o qui o in un'altra struttura pubblica che viene messa a disposizione nostra. Ci stiamo ragionando, anche il Presidente che l'ha chiamato in questo momento della Camera di Commercio, stiamo raccontando un po' tutte le categorie per capire se farlo insieme, se farlo... perché il problema principale è la gestione dell'emergenza. Quello che si preoccupa l'emergenza non siamo nei medici, siamo degli esperti, sto parlando con le strutture pubbliche, dall'università di medicina, all'IRCA, ad altre attività che mi stanno facendo la formazione in questo periodo, perché obiettivamente comunque un lavoro... non che noi non facciamo tutti i giorni, ma su quello ci stiamo impegnando e ho promesso a parole di fare anche questo, perché se le nostre imprese ne escono, di fare una specie di negozio free, di attività, una volta che tutti sono vaccinate all'interno dell'attività, è un'attività che si presenta in maniera diversa. Pertanto noi vorremmo fare in modo che tutte le nostre attività siano vaccinate, siano pronte ad accogliere il pubblico. La Sardegna insegna, la Sardegna insegna. La Sardegna insegna, adesso sono un po' bassi, mi dicevano, vedevo prima i dati, sono a 0,25 di vaccinazione, mentre altre regioni sono a 95. Qui bisogna che le imprese soprattutto si vaccina, i propri dipendenti, noi clienti bilaterali ci stiamo ragionando, giovedì faremo un incontro, tutti i dipendenti del terziario potrebbero essere anche su questo veicolato, stiamo ragionando con il sindacato e questo è il primo grande blocco di pensiero. Il secondo grande blocco di pensiero e stiamo parlando con le imprese anche bancarie sul futuro. Perché cosa è stato dato adesso? È stata data forte liquidità nel 2020 da parte dello Stato, da parte della regione, veicolato attraverso i nostri confidi, il nostro confidi che è unico ha dato forse forte liquidità e pertanto oggi i nostri imprenditori hanno un po' di liquidà all'interno, ma cosa devono fare? Devono darla nei previ periodi, oltremodo a giugno dovrebbe scadere, speriamo di no, la moratoria dei mutui. C'è tutta una serie di condizioni che non permetteranno di far ripartire facilmente le nostre imprese. Stiamo parlando con istituti di primaria importanza nazionale, perciò capite bene di chi parlo, perché oggi mai in questa regione sono tutti istituti di carattere nazionale, ci abbiamo parlato, il nostro ufficio studi sta parlando con il suo ufficio studi, insieme stiamo facendo dei ragionamenti importanti e cioè fa partire al meglio le nostre imprese e cioè se hanno un debito troppo importante nel breve periodo, perché sono tutti spostati nel breve periodo, cercare di allungarli. Non ha interesse nessuno, neanche istituti di credito, far chiudere tutte le imprese. Forse qualcuno che non l'ha pensata bene, cioè fare i mutui a sei anni e un anno è già passato, è stato un errore, cioè qui bisogna portare tutto da un breve periodo a un lungo periodo. Nei pensi quando inizia a pagare, questi non incassano da un anno, hanno pochissimi soldi dallo Stato, dopo un anno che non incassano devono pagare in moto, saltano tutto. Quindi l'avete raggiunta l'intesa facendo una battuta? L'intesa l'avete raggiunta? Più che raggiunta, no, il fatto stesso che al tavolo, lo stiamo parlando molto bene e sono loro stessi che sono preoccupati dall'andamento perché è un mondo economico che muove. Perciò sono preoccupati, chi vive nel mondo economico si rende conto più di 4 o 5 scienziati che oltre quelli i dati scientifici non vedono o che non conoscono l'economia, a quel punto si preoccupano che un mondo economico come il mondo delle marche, io ripeto, forse non è a conoscenza, il 25% delle delle marche è il commercio, il 14% è il turismo, il 25% è i servizi, pertanto noi contiamo il 60% di tutta l'economia di questo territorio e se il 60% chiude, questo territorio è morto dopo il terrenoto. E poi siamo all'estate, adesso sta arrivando l'estate, ci sono le preoccupazioni da parte dei gestori di BNB, è stato scelto per cercare di incentivare il turismo un nuovo testimonial che è il CT della Nazionale Mancini, io non so come vede questa scelta, siamo passati dal ciclista Nibali che ieri abbiamo visto sulla strada di Castelfidardo e stiamo vedendo in questi giorni sulla Tirena Triatico, oggi con la tappa di Lido di Fermo e poi è stato scelto lo chiesino, visto che chiesi va di moda. Questa domanda mi preoccupa, questa domanda mi preoccupa, perché la scelta prima Nibali ma soprattutto quella del CT della Nazionale è una scelta condivisa tra regione e camera di commercio, essendo io responsabile del turismo delle marche è chiaro condivisa al 100%, anzi la vediamo in forte prospettiva positiva perché chiaramente noi l'estate 2021 la vedremo all'incirca come quella passata del 2020, adesso qualche straniero in più questo lo speriamo, però diciamo che poco cambierà, ma da ottobre in poi noi ci metteremo a lavorare sull'estero, andando a riconquistare l'Europa, poi il mondo dell'est e poi cercheremo di andare verso gli Stati Uniti. E il CT della Nazionale, se vince, è proprio il centro avanti, dicevo in una riunione economica, le quattro università, al presidente Acquavoli, abbiamo scelto un grande, non un CT, un centro avanti dell'economia marchigiana, questo io l'ho paragonata, spero pertanto che vada bene e speriamo di vincere se questo è il successo, se avremo successo e far conoscere il nostro territorio perché, le ripeto, all'estero noi siamo poco conosciuti ancora. Io le dico, le faccio un'affermazione per cui, io le sa benissimo che è un fratello che vive e lavora in Norvegia insieme all'università e lui mi diceva, molti norvegesi, la Norvegia è un paese ricco, vanno in Croazia perché non ci sono degli scali diretti nella nostra regione. Si sta parlando tanto di questa nuova compagnia, con anche un'altra ente associativo, è vero, però le marche sono sfavorite soprattutto a livello di infrastrutture, perché poi, come vede, un paese ricco preferiscono andare in Croazia con tutto il rispetto degli amici croati e non si perdono le bellezze della nostra regione e soprattutto le specialità enogastronomiche, visto anche della nostra ristorazione, che sono delle eccellenze uniche. Allora, il progetto della compagnia era, ho messo giù il telefono proprio prima del collegamento col presidente della compagnia, va ancora bene, sta andando avanti, c'è un progetto di evoluzione solo per il bene di partire il prima possibile, anzi, mi hanno promesso che quest'estate qualcosa, se tutto va bene, potrebbe già arrivare e questo sarebbe positivo, perciò i nostri imprenditori del turismo sono pronti, noi abbiamo fatti i stati generali, non sarà un mese fa e stiamo in attesa di capire quali sono le evoluzioni proprio nel nostro scalo d'orico. Io in Svezia ho fatto già tre missioni e obiettivamente, e come dice lei, loro cercano non doppio scalo su Monaco, perché noi possiamo per il momento promettere soltanto doppio scalo, soprattutto ad aprile, per loro comincia a vedere l'estate, la primavera. E sono amanti, io ho l'ultima punizione che ho fatto, quando ho fatto il tuo operetto, mi chiedevano un territorio col golf, ma non vogliono soltanto un golf, l'ultimo era tre anni fa, non c'era il secondo golf, adesso abbiamo un 18 bucche e un nuovo bucche abbastanza vicino, il 9 bucche ancora non l'ho visto, di qua ci vado a giocare ed è un bellissimo campo che loro piacciono molto, cioè loro ad aprile non vedono l'ora di vedere un po' di sole, pertanto iniziano a fare questi viaggi, viaggiando andando più che altro all'aria aperta a giocare a golf. Adesso abbiamo questa opportunità, vediamo se riusciamo a fare dei collegamenti. Questi progetti li conosciamo molto bene e diciamo che la volontà di costruire intorno al campo di golf di Sirola un progetto globale turistico c'è e lo stiamo da qualche tempo mettendo a punto. Quindi siete pronti, ci sono molti dei in cantiere, bisogna velocizzare i tempi, anche per i ristori così, per questi indenizi, speriamo che non si debba aspettare il mese di domani dovremo avere delle novità. Domani qui? Mi hanno detto che... L'anticipazione non ce la dà, non c'è qualche anticipazione direttore da dare... Il fatto che sta cambiando, siamo riusciti, questo lo abbiamo fatto noi, come la goccia che rompe la pietra. A fra sassi come la goccia... Non ha senso fare una valutazione di ristori su un mese di aprile, si tenera in considerazione il mese di aprile. Lei pensi in mese di aprile per il mondo del turismo che sta chiuso. Che mese è? Noi abbiamo detto, prendiamo i mesi, ce l'abbiamo, un mese 2020 su 2019, sappiamo esattamente com'è andata e su questo possiamo fare le valutazioni. Questo l'abbiamo fatto già accettare, mi pare da qualche settimana che già è entrato nel nuovo modo di pensare del governo. Adesso bisogna farli accettare, mi pare lo scostamento di bilancio ci sarà, è già stato previsto, mi pare che Draghi, che eravamo un po' preoccupati, devo ammettere che Draghi in primo tempo aveva detto non faccio scostamenti di bilancio. Ok, 25 miliardi poi sono aumentati, ha deciso di aumentare altri 5 miliardi penso lo scostamento. Poi c'è il DEF che il DEF verrà fatto fra poco e quindi è tutto una cosa in itinere ma qui i soldi servono non in itinere, qui i soldi servono subito. Noi mettere un economista, un grande economista a livello centrale, da una parte è un fatto positivo perché viene conosciuto da tutto il mondo, riconosciuta la sua professionalità, dall'altra parte è uno che fa i conti e questo un po' ci preoccupava. Perciò le posso assicurare che il mio presidente quando è andato a visitarlo ha puntato molto sui ristori ma soprattutto su piano vaccini. Noi il primo di febbraio quando qui era tutto fermo, noi abbiamo detto buttiamo giù un piano vaccini adeguato. Ecco perché sto prendo la sede al piano vaccini, perché noi riteniamo che solo in questo modo ne usciamo e questo paese ne esce e non ci saranno le varianti che metterà in difficoltà, perché attendere ancora permetterà le varianti di entrare e non riusciremo più a chiudere, non ripartiamo più. Io direttore la ringrazio perché l'ho detto che l'avrei rubato una ventina di minuti, abbiamo sforato ma ovviamente questo è un settore che ci interessa molto, alcuni che ci seguono hanno ripostato questo incontro delle 18 e 30, quindi speriamo di essere stati esaustivi, comunque avremo la possibilità magari, approfitteremo del dopo Pasqua per tirare, anche se a Pasqua resterete chiusi, per tirare ulteriormente le fila di tutta la situazione, visto che poi dovremmo avere qualcosa di più preciso anche riguardo ai ristori, gli indenizi che verranno date alle categorie che fanno parte della Coff Commercio, io le darei appuntamento, se lei è disponibile, a dopo Pasqua per rifare il punto di situazione, per vedere insomma come sta andando il settore e se quindi questo piano di vaccinazione, come ha detto ieri sera da Fazio, il generale Figliuolo, ha cominciato a respirare, a prendere vita in maniera più efficace e quindi possiamo stare tutti più tranquilli. Grazie ancora. Grazie a voi. Saluto a tutti.